Nel video di oggi parleremo di competenze chiave, ovvero di quelle competenze che devono essere implementate nel mondo scuola al fine di far sì che i nostri studenti e le studentesse possano raggiungere quell'obiettivo di apprendimento permanente, cui queste competenze sono finalizzate. Perché? Perché viviamo in una realtà sempre in continua evoluzione, per cui non ci si può fermare neanche da un punto di vista appunto dell'apprendimento, è quello che viene chiamato in inglese Lifelong Learning e che è stato appunto uno degli obiettivi previsti già dalla raccomandazione europea del 2006, sostituita ed implementata dalla raccomandazione europea del 2018. Ecco qui che torniamo ad avvalerci della nostra lavagnetta che sembra trovare riscuotere successo, mi fa molto molto piacere, ma sono soltanto schemi riepilogativi evidentemente, magari importanti appunto come sempre per mettere un pochettino, cosa so, una mappa concettuale che può aiutare poi nello studio più approfondito, negli strumenti di studio che sicuramente avrete e magari fra questi, perché no, potrete anche valutare il videocorso che ho preparato sulla normativa scolastica e di cui vi metto come sempre il link in descrizione. E come sempre ti ricordo, ovviamente ti avrò annoiato alla morte su questo, di iscriverti al canale e andiamo a vederci allora quali sono queste competenze chiave. Noi chiaramente ce ne occupiamo da un punto di vista normativo, non da un punto di vista della progettazione didattica, perché quella non sarebbe di nostra competenza. Da un punto di vista normativo, il riferimento legislativo che mi piace sempre dare, ve l'ho già dato, è la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea 2018. Come vedete si tratta di una raccomandazione, quindi non di una norma direttamente vincolante nel nostro Paese, non è un regolamento, per quel che riguarda le norme europee, i regolamenti hanno una diretta efficacia, un'immediata efficacia direttamente nello Stato italiano, mentre invece per quel che riguarda le raccomandazioni europee sono appunto delle indicazioni a cui però anche il nostro Stato ovviamente, certamente, si adegua. Le competenze sono 8, e lo erano già nel 2006, sono state confermate. Quali sono? Andiamocelo a vedere. Beh, è la competenza alfabetica funzionale, quindi qui parliamo di quella competenza legata alla comprensione della propria lingua madre, ma non soltanto di semplice comprensione, ma anche di poi espressione, no? Sia in termini di testi scritti che in termini di comunicazione orale, di tutti quelli che sono i propri sentimenti o la descrizione delle immagini, per quel che riguarda ovviamente la propria lingua madre o la lingua ufficiale del proprio Paese. Poi abbiamo la competenza multilinguistica, cioè quella competenza volta a cercare invece di acquisire la conoscenza di lingue di natura differente rispetto a quelle del Paese di propria provenienza. Poi abbiamo la competenza nelle cosiddette materie STEM di cui tanto si è parlato nei giorni, nelle settimane scorse, matematica, scienze, tecnologia e ingegneria. Qui sottolineo come la raccomandazione dell'Unione Europea in qualche modo evidenzia come queste competenze non debbano più essere appannaggio secondo un vecchio ed anacronistico, no? Uso semplicemente del genere maschile, no? Si diceva sempre scienze, tecnologie, ingegneria, roba per maschi, no? Assolutamente no, anzi deve sempre essere implementato di più l'avvicinamento ulteriore, no? Anche delle donne, anche delle studentesse a questo tipo di materie ormai non c'è più, non bisogna più parlare di questa differenziazione, ripeto, anacronistica. La quarta competenza è quella digitale, quindi a tutto il mondo digitale, ai processi di automazione e a tutto ciò che riguarda chiaramente l'utilizzo del computer nelle evoluzioni che poi ha nel corso degli anni sempre più rapide. La quinta competenza è quella di tipo sociale e di imparare ad imparare. È molto carina questa competenza, imparare ad imparare e risponde proprio a quell'obiettivo di lifelong learning, cioè realtà che muta costantemente e quindi deve essere acquisita sin dalla scuola, da parte degli studenti e delle studentesse, la capacità di essere sempre in movimento, sempre di avere nuove metodologie da imparare e sempre nuove conoscenze e abilità da mettere nel proprio bagaglio proprio per far fronte a quelli che sono le mutazioni di natura sociale, di natura legislativa, di natura tecnologica che il mondo ci propone, proprio perché soltanto così in qualche modo si riesce poi ad essere anche in grado di far fronte ai mutamenti di natura sociale. La competenza numero 6 è quella relativa alla cittadinanza e quindi qui chiaramente parliamo di tutta quella comprensione dei fenomeni tipo politico, giuridico, economico, in qualche modo non viviamo da soli, viviamo in una società che ha la sua struttura, che va rispettata e va compresa, va quindi conosciuta, posso rispettare se conosco in questo senso. Settima competenza è quella dell'imprenditoria, bella anche questo tipo di competenza, normalmente siamo sempre stati abituati ad un mondo in cui la scuola fondamentalmente doveva abituare a trovare semplicemente un lavoro, invece no, magari non soltanto trovare un lavoro ma anche creare un lavoro e quindi chiaramente la competenza dell'imprenditoria è quella che presuppone la capacità di creare, la capacità di dare valore e questo può anche essere utile per acquisire quelle competenze in materia di gestione di management, di gestione di gruppi che poi possono essere utili invece anche non solo come lavoro imprenditoriale ma anche nell'ambito di lavori di tipo differenti. L'ottava competenza è quella relativa alla consapevolezza ed espressione culturali, qui siamo di fronte a quella competenza che porta il soggetto ad apprezzare evidentemente la diversità culturale, quindi la conoscenza anche di diversi mondi e del modo di comunicare dei diversi mondi culturali presenti insomma nella nostra civiltà. Quindi queste sono le otto competenze che sono state confermate, le otto competenze chiave da conoscere, da ricordare, ma attenzione per ciascuna delle competenze chiave la raccomandazione stabilisce anche quali sono i modi attraverso i quali queste devono in qualche modo essere apprese o meglio in qualche modo stabilisce che per ognuna di queste competenze chiave ci sono tre profili che non possono mancare nell'ambito dell'apprendimento a cui devono tendere, che sono quello della conoscenza, quello dell'abilità e quello dell'atteggiamento. Conoscenza sta per trasferimento chiaramente dei concetti base per poter acquisire proprio gli elementi di conoscenza di un determinato settore, ne so, nella matematica magari le formule piuttosto che i dati di fondo, gli argomenti, no? E così per qualsiasi tipo di materia. Le abilità stanno invece ad indicare la capacità di saper raggiungere risultati, cioè di saper mettere in pratica, di saper applicare i processi. Ho acquisito delle conoscenze ma arrivo anche alla capacità di produrre dei risultati, quindi ho delle abilità in questo senso da poter spendere. L'atteggiamento è invece la predisposizione mentale, quindi che ne so, facciamo l'esempio della competenza multilinguistica, la conoscenza consisterà chiaramente nel trasferimento della conoscenza del vocabolario, di quella determinata lingua, delle convenzioni grammaticali e via discorrendo. L'abilità consisterà nell'acquisire una competenza ad esempio di saper sostenere un dialogo, no? Di saper redigere anche per iscritto secondo la lingua straniera. Questi sono tipi di competenze legate appunto all'abilità, cioè riesco a produrre dei risultati in base alle conoscenze che ho acquisito. L'atteggiamento è la predisposizione mentale, quindi è chiaro che se stiamo parlando di competenza multilinguistica l'atteggiamento dovrebbe essere un atteggiamento di fascinazione nei confronti della lingua straniera, dei costumi e degli usi del paese di provenienza, no? E quindi magari spingere su quel tipo di motivazione per migliorare l'apprendimento sia della conoscenza e poi dell'abilità. Tutto questo per raggiungere quali obiettivi? Beh, per acquisire delle best practice in armonia con lo sviluppo sostenibile. Questa è una delle novità che magari dobbiamo ricordarci quando facciamo riferimento alla raccomandazione europea del 2018, perché introdotta proprio nel 2018, cioè quello che tutte queste competenze chiave devono in qualche modo essere apprese sempre in armonia con lo sviluppo sostenibile. La parola sviluppo sostenibile oggi la troviamo dappertutto, è molto abusata, però il legislatore già nel 2018 insomma l'aveva indicata, ricordiamoci sempre che sviluppo sostenibile è un'attenzione alla scarsità delle risorse, no? Noi pensiamo sempre all'ambiente, certamente lo sviluppo sostenibile ha a che fare con l'ambiente, ma non è soltanto ambiente, lo sviluppo sostenibile ha a che fare anche con la gestione e l'efficientamento dei processi e magari anche dei processi di automazioni, delle risorse e anche delle risorse umane, no? Il problema di fondo da cui si parte è che le risorse possono sempre scarseggiare e quindi qualsiasi competenza va in qualche modo valorizzata e appresa sempre tenendo presente che deve essere sostenibile. Bene, questo in maniera molto riepilogativa, immediata, sulla raccomandazione chiave delle competenze chiave dell'Unione Europea del 2018. Spero che questo video ti sia stato utile come sempre, condividi con chi ritieni di voler condividere che magari ne ha bisogno, sai che si sta preparando magari qualche concorso volontario nel mondo scuola, ci vediamo al prossimo video!